Il Ciemito è un canale per onde artificiali di piccola scala che si trova nelle installazioni del campus nord dell'OPC a Barcellona. Progettato e costruito totalmente dallo staff del laboratorio di ingegneria marittima, l'IM, con l'obiettivo di essere utilizzato sia per la docenza che per la ricerca. Il Ciemito diventa un complemento perfetto per il suo fratello maggiore, il canale di ricerca e sperimentazione marittima CIEM. Queste installazioni permettono lo studio di processi idrodinamici complessi, come la interazione tra onde e strutture, la stabilità di opere di ingegneria marittima o il comportamento delle spiagge. Il Ciemito forma parte della rete spagnola delle installazioni scientifico-tecnologiche singolari, ICTS, e della rete europea Hydralab Plus. Il canale è composto da tre parti perfettamente differenziabili. Una struttura rigida, dove si riproduce a scala la struttura che si vuole analizzare. Il sistema di generazione delle onde, che permette di riprodurre le onde desiderate. Il sistema di registrazioni dati, che comprende una serie di sensori e un sistema di acquisizione delle variabili fisiche di interesse. Il Ciemito è fabbricato con una struttura di tubi metallici quadrati laminati a freddo, con pareti e fondo di vetro temperato di 10 mm di spessore, che permettano una visione completa degli esperimenti. Il canale è lungo 18 metri, largo 38 cm e alto 56. Due pozzi di 20 cm di diametro, situate agli estremi, permettono il rapido riempimento e svuotamento del canale. L'acqua, dolce, viene immagazzinata in un deposito di 3 metri cubi attraverso un sistema di pompaggio e filtraggio. Questo sistema permette oltretutto di generare correnti in contemporanea alle onde. Il sistema di generazione delle onde è composto da una palla verticale azionata da un adattatore lineare elettrico con una corsa massima di un metro e una velocità massima di risposta di 1,6 metri al secondo. Questo sistema permette la generazione di un'onda massima teorica di 28 cm di altezza, 1,7 secondi di periodo, ad una profondità d'acqua di 35 cm. La pala viene governata per un software sviluppato dallo staff del laboratorio ed è capace di riprodurre onde regolari, irregolari e serie temporali reali registrate da boi e onda metriche. Agli estremi del canale sono posizionate due camere di assorbimento passivo per smorzare la riflessione delle onde. Il cemito è equipaggiato con otto sensori resistivi per la registrazione delle variazioni della superficie libera, in maniera tale da poter conoscere nel punto di interesse l'altezza e il periodo d'onda generato. In più, dispone di un sistema autonomo di acquisizione dati con una capacità di 32 canali analogici che permettono la connessione di altri tipi di sensori come ad esempio velocimetri, sensori di pressione e cellule di carico.